Eh, hai visto? Come sta carino. Viaggio, scusami, ma è per comando. Nella mia macchina, però devi accedere ai sediolini posteriori. Dal lato del cofano ci sta il metro. Un metro bianco rigido, lo puoi prendere? Aspetta, piccolina. Oh, pure i piccoletti li vogliamo misurare. E' qua, sì. Non mi è venuto in mente. Ma non mi piace chiamarlo bestiolini. Piccola? Hai ragione. Vuoi correre, vuoi fare, vuoi fare? Pronto, pronto, veni. I pistelli si devono aprire di nuovo, eh? Perché si è finito, mi faccio tutto. No, sì. Ecco. Oggi a Robby. Ah, ce li è ancora? Sì, sì. Allora, vedi se è così da seduta. Buu, 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 buu. Questa testa piccolina è pecciccione. No, attenzione, ti metti paura. C'è un'altra testa piccolina. Non è cosa. Sei pagliaccia. Aspettate un attimo, non la chiamate. C'ha le orecchie a ponte, non lo so. Piccoli le orecchie rispetto a una testa. È una mosca? No, lei non risponde. Guarda, zia Robby. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Ballerina. Ballerina. Le la chiamiamo Carla. Carla. Carla Fracci. Perché no? Carla è carino. Carla. Non è male. Sono tutti questi nomi. I cani. Bruna. Dobbiamo portare tutti i nomi possibili. Carla Fracci, guarda, lei balla. Bruna e Bruna. Bruna.